Trovate la posizione del contenitore di biorischio. Ottimo lavoro. Contenitore di biorischio localizzato. Dieci secondi all'inserimento. Inserimento tra cinque secondi. Raggiungete il contenitore di biorischio e difendetelo. Sto ricaricando! Liberate l'area dell'esplosione! Ambio caricatore! Dividero. Difendete la stanza e proteggete il contenitore. Tornate a occuparvi del contenitore. Smettete di difendere la stanza. Resta solo un operatore d'attacco. Un solo difensore rimasto. Difensori eliminati. Missione d'attacco riuscita. A Aspetta solo un operatore de riuscita. iking A Aspetta solo un operatore di riuscita. . Terjeρα ir,시나, è unaAc treffen. Riottore di Kipoli. Sc frame consciousness també su riprendere la stanza. Co band team. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!